Bene ragazzi, utilizziamo blocconote Mimio Studio per effettuare una registrazione, quindi un video. Utilizzeremo GeoGebra per dimostrare graficamente il teorema di Pitagora. Apriamo il programma GeoGebra, facciamo schermo intero. Adesso, in pratica, noi apriamo e disegniamo il triangolo rettangolo. Ok, finiamo il triangolo rettangolo, adesso il punto. Attraverso la funzione segmento uniamo i punti ottenuti, siamo sicuri che è un triangolo rettangolo perché le due rette originariamente sono perpendicolari. E poi, una volta che abbiamo fatto questo, togliamo quello che non ci serve attraverso Mostra Nascondi. Una e due Due Ok Un attimino che spostiamo Ecco qua, adesso costruiamo sui lati, ripotenusa e due cateti, i quadrati, utilizzando la funzione di rotazione. La funzione di rotazione la attiviamo da qui, rotazione, adesso quindi guardate questo lato, lo facciamo rotare attorno a questo punto di 90 gradi, 90 gradi, in senso orario. E otteniamo il primo lato del quadrato, questo lato, questo lato attorno a questo punto, in senso anti orario, secondo lato del quadrato, tiriamo giù un attimino per vedere, adesso facciamo rotare questo lato, questo lato attorno a questo punto. E abbiamo finito il primo quadrato, tiriamo giù, ci avviciniamo al secondo, al cateto maggiore, facciamo la stessa cosa, rotazione di questo lato attorno a questo lato, attorno a questo angolo, in senso in senso orario, rotazione, questo lato, intendo questo, annulliamo ok, elimina allora rotazione questo lato attorno a questo punto in senso antiorario questo lato intorno a questo punto in senso orario diciamo ok rimane un altro punto qui questo lato intorno a questo punto anzi no, rotazione questo lato attorno a questo punto in senso antiorario adesso rimane l'ultimo quadrato sul cateto minore quindi sempre rotazione questo lato attorno a questo punto in senso antiorario questo lato attorno a questo punto in senso antiorario ok adesso adesso utilizzando lo zoom riduciamo un attimino adesso con la funzione con la funzione ecco poligono ripassiamo i vertici guardate che succede poligono poligono 2 3 4 e 5 1 2 3 4 e 5 l'ultimo quadrato 1 2 3 4 e 5 a questo punto dobbiamo verificare che la superficie del quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma delle superfici dei quadrati costruiti sui due cateti questo e questo quindi andiamo a prendere la funzione area ci avviciniamo al primo quadrato clicchiamo esce fuori la superficie 72,63 quadrato piccolo 10,89 quadrato spostiamo un attimino le etichette in maniera da posizionarlo e poi andiamo a scrivere quello di cui abbiamo che abbiamo scoperto che in pratica cioè il teorema di Pitagora teorema di Pitagora il quadrato costruito sul l'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati 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 costruiti sui due cateti scriviamo la relazione in questione quindi abbiamo detto 72,63 centimetri diciamo quadrati uguale uguale a 61,64 61,64 centimetri quadrati più 10,89 10,89 centimetri 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 quadrati ok facciamo ok ci spostiamo in posizione questo ok quindi ricapitolando il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti come volevamo dimostrare all'inizio alla prossima ragazzi ci vediamo ciao ciao